Come sempre, grande entusiasmo e partecipazione accompagnano la nostra rubrica La Voce dei Comites, voglia di raccontarsi da parte dei nuovi eletti comitati e soprattutto voglia di conoscere da parte degli italiani all'estero. Direttore, potrebbe essere questo il segnale di nuova energia che lei auspicava alla vigilia delle elezioni? Io credo di sì. Effettivamente noi abbiamo avuto un importante rinnovamento nei comites. Sono circa 1.400 i membri dei nuovi comites, molti dei quali di nuova istituzione in collettività che sono cresciute hanno raggiunto i 3.000 membri per circoscrizione consolare e quindi adesso hanno un comitato. Ecco, questa rappresentanza io credo porterà appunto a un'ulteriore possibilità di interagire con le nostre collettività che sono composte variamente, come dicevamo prima, ci sono tanti italiani che sono da molte generazioni all'estero e che quindi sono nati all'estero, però ci sono anche i nuovi italiani giunti dall'Italia. Ci sono le giovanissime generazioni nate all'estero, qui va trasmesso questo patrimonio di italianità. I nuovi comites sono composti per il 60% da uomini, ma c'è un 40% molto importante di donne. Ci sono anche un 20% di giovani circa, che hanno meno di 40 anni, considero che a meno di 40 anni è davvero un giovane nella società attuale. Ecco, io quindi auspico con loro si possa individuare una modalità interattiva e questa è l'indicazione che sicuramente daremo a tutte le nostre ambasciate e a tutti i nostri consolati, accompagnare i comites verso, come dicevo prima, anche iniziative, verso l'ascolto della collettività, verso una collaborazione costante sia con le istituzioni, appunto ambasciate e consolate, e sia verso gli italiani stessi.